sempre compagnia della mini golf della della non del il mini golf è il gioco la mini golf è quella la osserviamo adesso prendiamo in considerazione analizziamo leggiamo riguardiamo a pagina 259 il sabato del villaggio chi non è mio alunno può benissimo prendere una qualunque edizione e io mi illudo mi illudo come foscolo mi illudo che ci sia qualcuno che guarda i miei video allora dove siamo rimasti al sabato del villaggio il concetto è molto molto semplice questa è una canzone sì sì ok basta parentesi concetto cominciamo da lì il concetto è molto semplice il sabato è meglio della domenica ricordandosi ovviamente che all'epoca di leopardi di sabato si lavorava che quindi il giorno di attesa della festa è migliore della festa e me l'avete detto anche voi in classe che che è meglio la vigilia di natale del natale in quanto tale che è meglio diciamo giugno l'inizio di giugno quando la scuola sta per finire che che ne so io agosto quando inizia a pensare cavolo tra poco le ricomincia ricominciano le lezioni è normale diciamo così è il buon leopardi prende questo concetto perché è meglio l'attesa che la che il vivere stesso della della gioia del giorno di riposo scusate mi sono distratto un attimo come pretesto per come si può dire per ingrandire il concetto ingigantirne la scala e coinvolgere l'intera vita di una persona è meglio quindi l'attesa della giovinezza o diciamo così dell'età adulta da giovane quando insomma si ha 20 anni una roba del genere 25 piuttosto che invece io uso il piuttosto che come andrebbe usato non nel senso di oppure ma nel senso di invece di dicevo meglio appunto la meglio l'attesa di questa giovinezza piuttosto che questa giovinezza stessa che cosa appunto ricordatevi comunque che a 20 anni all'epoca ai primi dell'ottocento 20 anni uno era già pronto era già sposato fondamentalmente aveva messo giù aveva messo già su famiglia ecco quindi non è che chiaro diciamo la scala dell'età era un attimo spostata rispetto a noi allora in questa canzone libera perché appunto i versi sono di lunghezza differente ok settenarie decasillabi vale sempre il solito discorso l'endecasillabo ha l'accento sulla decima perché è piano se l'endecasillabo invece è sdrucciolo può avere anche 12 sillabe mentre invece il come cavolo si chiama il settenario a sette sillabe ok con l'accento che cade sulla sesta se io lo faccio tronco potrebbe anche averne sei di sillabe allora dove ero rimasto sì canzone libera quindi le rime sono un po come dire sparpagliate non messe a casaccio ovviamente spesso e volentieri le rime sono sostituite da assonanze e da consonanze ok assonanza è quando le parole fanno rima solo con le vocali ci hanno solo le vocali uguali tipo sole e cuore invece le consonanze è quando le parole fanno rima solo con le consonanti adesso un esempio così tac non mi viene però ecco mi verrà dunque cos'è che volevo dire ah sì oltre a sonanze e consonanze ci sono anche un sacco di rime interne sacco ci sono delle rime interne allora vediamo come si apre la donzelletta vien dalla anche le alliterazioni servono a dare molto ritmo la donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano mazzolini di rose e di viole onde si come suole ornare la sapresta e diman al di di festa il petto il crine allora la parafrasi non è difficile leopardi stesso voleva in un certo modo scrivere in maniera semplice in maniera comprensibile avrebbe potuto ben scrivere in maniera molto più complicata allora la donzelletta la giovinetta viene dalla campagna allora donzelletta simbolo della giovinezza ovviamente viene è in movimento la giovinezza si muove viene dalla campagna sul calar del sole qui è un po' ambigua l'espressione sul calar del sole vuol dire che guarda verso il sole verso il sole che tramonta no è più probabile che oppure semplicemente arriva verso il tramonto il che è possibile facile diciamo la interpretazione più semplice oppure potrebbe anche essere è bella suggestiva che lei sta arrivando da ovest quindi è rivolta verso est nel senso di quindi guarda verso il sorgere verso il sole che sorge in realtà il sole sta tramontando ma guarda verso est cioè da dove sorge il sole da dove nasce il nuovo giorno ecco per capirci quindi la giovinezza di nuovo col suo fascio dell'erba e reca in mano in mano un mazzolino cioè non è andata solo a prendere le erbe le erbe che servivano in campagna ma è anche preso un mazzolino di rose e di viole e lì ci sono state varie interpretazioni perché la viola dovrebbe essere anche il fiore dedicato a una dea della mortalità se non vado errato una dea della morte forse ecate potrei ricordare male anche perché purtroppo le mie come si dice le mie insomma le mie fotocopie con le mie dispense con tutti gli appunti le ho dimenticati a scuola e quindi devo andare esclusivamente a memoria perché non ho il tempo né sinceramente la voglia di andarmi a rivedere tutte le singole cose che avevo appuntato nel corso degli anni quindi se mi dimentico qualcosa fa fede cioè è valido quanto vi ho detto a lezione dunque rose e viole onde cioè per cui come è solita sic come suole togliete il sic facile come è solita suole vi avevo spiegato che il verbo solere esser soliti e la si appresta cioè si sta prestando si sta preparando a ornare a decorare domani ecco la prima come si può dire il primo accenno alla domenica al giorno di festa il petto il crine cioè il petto e il crine e i capelli che io ovviamente non ho cos'è che volevo dirvi? ah sì anche qui c'è una marea di enjambement ok che ormai più già spiegato non c'è bisogno vedete ad esempio in mano un mazzolino reca un mazzolino divido il verbo dall'oggetto e un sacco anche di come cavolo si chiamano anastrofe ok cioè il ribaltamento della sequenza dei termini normali cioè anziché si appresta ad ornare ornare si appresta siede con le vicine sulla scala a filare la vecchiarella incontro là dove si perde il giorno bellissimo invece la vecchia è seduta non si muove con le vicine sulla scala a filare la vecchiarella e avete di nuovo questa doppia L che troviamo anche altrove anche come semplice rima beh questa doppia L e questo vezzeggiativo vecchiarella fa il paio con donzelletta anche qui doppia L ed è un vezzeggiativo non ha detto il vecchierello ok ha usato il femminile apposta perché aveva parlato di donzelletta quindi una chiara contrapposizione calcata grazie alla somiglianza dei termini utilizzati incontro e somiglianza fonica fonetica dei suoni incontro là dove si perde il giorno qui è chiarissimo la vecchia è rivolta verso il tramonto è simbolico è metaforico cioè verso il tramonto della sua vita e novellando viene del suo buon tempo quando è di della festa ella si ornava ed ancora sana e snella solea danzarla sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella anche qui viene novellando cioè va parlando del suo buon tempo metafora per indicare la sua giovinezza quando anche lei ai giorni della festa si ornava ed era ancora sana e snella stava bene era giovane snella appunto solea era solita danzare insieme a quelli che ebbe come compagni ecco come compagni predicativo dell'oggetto come compagni dell'età più bella un'altra metafora per la giovinezza già tutta l'aria in bruna torna azzurro il sereno e torna all'ombre giù dai colli dai tetti al biancheggiar della recente luna allora tramonta il sole l'aria si scurisce torna azzurro il sereno qualcuno dice che praticamente verso il tramonto anziché avere il cielo chiaro 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 per il sole bello carico diciamo che porta verso il cielo un cielo bianco biancheggiante qualcuno dice appunto che adesso verso il tramonto il cielo torna azzurro cupo qualcun altro io propendo per questa vicenda per questa versione il cielo torna azzurro cioè blu scuro in questo caso perché è sorta la luna quindi da in bruna nero scuro torna a essere chiaro grazie alla luna azzurro allora luna piena evidentemente mi sono perso perso il segno perso il segno ho perso il segno ecco torna azzurro il sereno e tornano le ombre giù dai colli dai tetti bellissima questa espressione perché dà l'idea appunto dall'alto al basso sorge la luna e quindi ritornano ricompaiono le ombre e dà l'idea appunto di un di ombre che cadono verso il basso partendo dal colle verso i tetti e quindi poi a terra al biancheggiare della recente luna appunto che è appena sorta or la squilla da segno della festa che viene altro come dire accenno alla domenica ora la campana dà il segno della festa che sta arrivando insomma perché probabilmente sta suonando i vespri oppure la mezzanotte dovete sapere e a quel suono diresti che il cor no mezzanotte no è troppo tardi e al cor che il cor si riconforta diresti che appunto c'era cavolo oh è finito il sabato i fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta in gruppo e qua e là saltando la giovinezza no che salta fanno un lieto rumore non dà fastidio il vocio insomma dei bambini dei ragazzini che giocano e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa il suo riposo e intanto riede un bel latinismo alla sua parca mensa alla sua povera semplice mensa fischiando il fischiare lo vedremo anche in carducci dà fortemente l'idea della serenità ok il sole sta tramontando giusto appunto siamo alle 16.13 del 27 dicembre ecco spero di